Ecco, aminteci che hai una voce, non appartiene a noi, non è quella di lui, 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 di lui o di lui, 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 di lui. È a te, di mille voci, è a te. Ricordati che hai una voce, non appartiene a nessuno, non è quella del padre, della madre, della sorella, del fratello, non è quella di un altro, non assomiglia. È a te, di lui, di lui, di lui, di lui, di lui. Di lui, di lui, di lui, di lui, di lui, di lui. In questo tempo del risveglio, ma tu, non imitare più, trova la tua, la tua unica bellissima voce, o lascia che ti trovi lei. Lascia che si esprima attraverso di te e poi ascoltala, seguila e fai arte il tuo essere qui.